E così abbiamo scherzato. Inizia con queste parole ironiche il post di replica di Natalino Balasso al presidente del Veneto Luca Zaia. Il comico Rodigino non ci sta a sentirsi dire basta che chieda scusa, che dica ho fatto una cazzata e la finiamo lì. Le testuali parole del governatore. Diciamo al tribunale, ai giudici che abbiamo scomodato, alla macchina già intasata dalla giustizia che in realtà era solo una cazzata, come dice Zaia, in calza balasso, che sostiene che nessuno lo aveva informato, che quello che aveva condiviso non era veritiero. Fatto salvo che per il comico aver attribuito quella frase al presidente allora giovane PR, quella con cui a dei musicisti sarebbero state offerte delle prostitute, neppure sarebbe un insulto. Il presidente vuole che gli chieda scusa, ma onestamente non so di cosa. Segue una lunga serie di commenti, diversi a favore, altrettanti critici nei confronti del comico, invitato a chiedere scusa e basta per la brutta figura. Sul caso, ieri a Ring, in diretta su Antena 3, la consigliera regionale del Veneto, che vogliamo, Elena Ostanel e il leghista Mario Conte, sono andati allo scontro. Ostanel ha ribadito che chiunque si senta diffamato è giusto che denunci, ma che i primi a usare un linguaggio violento sono Lega e Fratelli d'Italia. Lo fanno troppo spesso verso persone che sono invisibili e non visibili, come il presidente Luca Zaia, che magari non si possono difendere. Mi faccia un esempio concreto su un'offesa della Lega Nord. Qualche parlamentare che pensa che ci siano morti. Ma faccia un esempio concreto e soprattutto mi faccia vedere se anche lei si è rivolta ai tribunali, perché se non l'ha fatta è complice.